Gli scienziati dell'Università di Tel Aviv hanno sviluppato una proteina in grado di proteggere e ripristinare le funzioni cerebrali che potrebbe rivelarsi molto utile nella cura delle malattie neurodegenerative oltre che nei casi di compromissione delle facoltà cerebrali come il declino cognitivo, la demenza o l'Alzheimer ma anche nei casi di SLA e morbo di Parkinson. La proteina chiamata NAP o Davunetide agirebbe direttamente sulla rete di microtubuli una parte cruciale del nostro sistema nervoso, la quale agisce come un sistema di trasporto all'interno delle cellule nervose portando proteine essenziali e permettendo la comunicazione tra le cellule. Nelle malattie neurodegenerative questa rete si rovina, portando ad effetti negativi sulle abilità motorie e sulle funzioni cognitive. Il nuovo peptide sarebbe in grado di proteggere e ripristinare le funzioni dei microtubuli. Lo studio è partito dall'utilizzo di un composto derivato dalla proteina ADNP che ha il compito di regolare più di 400 geni ed è fondamentale per lo sviluppo e la formazione di cervello, memoria e comportamento.